Sai, ti dirò come mai, giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più a cercare qualcosa, qualche cosa di più, che alla fine poi ti tocca di pagare. Grazie ancora ai falsi d'autore! Parliamo di famiglia, parliamo di mamma e papà e lo facciamo col nostro mammo! E piripiri, piripiri, piripiri! Buonasera, buonasera! Io sono venuto qua per dire a tutte le mamme di stare tranquille se lasciate i figli con i papà, perché sono in mani sicure! Non mi sembra così questa cosa. Io, anche se sono qua, lo seguo attraverso le telecamere. L'importante è avere l'app giusta! E che app'è? Appa! Cortesia! Sì, sì. Che è? Campanella? È arrivata la babysitter! Ah, babysitter! Sì, perché mi dà una mano quando io devo uscire per fare qualche commissione. Ah, ho capito! Sì, sì, è una cosa che lei o mio figlio stravede per questa ragazza, la cosa è incredibile! Proprio impazzisce! Si attaccano! Sì, si impazzisce! Che sta facendo, scusami? Ce fa un preo! Ma ci sta facendo un po' troppo preo! Che è? Ce sta facendo un preo! Aaaaaaah! Sacareno malà! Lei deve essere calmo, così le prende un colpo! No, è che io forse ho sbagliato a prendere una ragazza così. È cieca! Ah, poverina, non ci vede! No, no, è della Repubblica cieca! Chi sa ti pare una concepire? Ma che c'è? Dari occhi chiaro! Ma lasci vedere, ma che cosa? Il telefono! Sì? Mia moglie! Oh, tu! Io ho intanto dare la bambina! Pronto, amore? Pronto, amore, vedi che ritardo! Sono a scuola, sto spiegando la Divina Commedia! Ah, allora ha fatto solo un paradiso piccatorio! Perché un feino è nato va a casa! Ma che dici? Sì, sì, è così! Noi, i bambini non... Ma che stai dicendo? Ma prenda un po'! Bene, bene, forza, forza, forza! Ci siamo, da Catania! Grazie! Stasera ci sono quasi tutti gli attori! C'è anche mio nipote che vorrei presentarvi qui per la prima volta! Lello! La, 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 la... Hai visto dove ti ho portato, Lello? Ti ho portato a... Cezze! Come bene? Hai visto dove ti ho portato? Sono contento! Ti ho portato a Catania! Che bello! Grazie a loro posso parlare! Sì! Pure qua! Pure quei amici di Catan! Sì! Siete favolò! Sì! Sì, pure sì! Oh, grazie! Tu ogni tanto non riesci a ricordarti! Quanto mi è diverto! Non hai idea! Ma dove sta andando? Bene, io li sono andati in un locale! Sì! E parlavo con delle ragà! Sì! Che fanno danza del vento! Sì! Ma quella già è su qualche 10! No! Però tipo una... Tre, vedi, tre! Ho scoperto che sto spaccando nei social, soprattutto su Instagram! Manco lì è tre! Ma perché che la fai dire a loro? E praticamente ho scoperto una cosa bellissima, perché ho fatto la foto con il mio cane ed è diventato famoso! Ho fatto la foto con il mio miglior amico ed è diventato famoso! Ho fatto la foto con la mia ragazza ed è diventato famoso! No, ma diventavo coinnoto! Chi ha tutte, sapete? Infatti lo lascia! Hai sazzocco! La, caro, neghe! Ma che c'è? Ma com'è che le le battute di Fitorino ce l'applauso? Stupende, sì! Ciò che vuoi! Vabbè! Ma tu lo sai che io comunque giro sempre a cercare di femminelle e cos'è l'altro? Sto me ne è passata una in questo locale e l'ho chiamata a modo mio! Come l'hai chiamata? Ehi! Giorgio! E si girò a volo! A Catania! Che ha sentito questa missa in Italia e mi fa... Sei bellissimo! Io l'ho dedicato a queste tessuali parò! Le! Sentiamo! Hai davvero un bel vestì? No! Ti ho sfiorata con un D? No! Io non so se l'hai sentì? No! Ma davvero mi hai colpito! Colpito perché tutto intero? E chi mi ha detto un pochino te la faccio! E fece buono! Te saluto! Va bene! Come vedete in sovraimpressione c'è questo blocco verde che significa che i bambini possono seguire questa parte di programma, poi arriverà il blocco giallo e significa che devono lasciare il programma e devono andare a dormire perché in questa parte, solo in questa parte ci sono dei personaggi che possono vedere i bambini, che possono vedere i bambini! Casugno! Dai, per qua ragazzi! Signor Matragna, vi ho portato a Catania solo per voi, Gianni Lattaro! Socorto con c'è ringo suele che vuole a puntificano, cheföra e scopolose! Didi! Andi! Socorro! Andi! Andi! Sorellino, 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 dalle fan di Gianni, come c'è scritto? Dalle fan di Gianni per Gianni, quella che mi impolpetta, la signora di impolpetta, Gianni, impolpetta pure a Catania Gianni, allora è vero, non l'ho visto, allora è vero, allora comincia a credere che tu impolpetti sul set, mi piace assasso, ma come funziona, raccontami, vengono da me e mi chiedono se vuoi impolpettare, no a sto punto ci devo credere, io ci dico sì, solitamente ci dico, e come fai, non l'ho capito, siccome, no fermi, voglio capire questa cosa, siccome siamo fermi, cioè noi facciamo sempre gli spettacoli ormai insieme, siamo da tutte le parti insieme, tu il tempo per impolpettare, lo so per certo non ce l'hai, quando lo fai? A Gianni al terzo, cioè l'unico momento potrebbe essere durante lo spettacolo? Sì, durante lo spettacolo in poppetta Ma come fai? Cioè tipo? In poppetta solitamente prima, dopo e durante lo spettacolo Durante lo spettacolo Cioè durante lo spettacolo, mentre io sono in scena, sono in polpetti? Sì, sì, sì E così non ti concentri le battute come le ricordi? Vabbè, tanto devo dire solo, io sono Gianni Bravo Gianni, poesia signor Matranca, poesia Se ce la regalo un poppetto prego Ma sei veramente un eroe No, Gianni, so Ogni volta Lo vogliamo conoscere meglio? Chiediamo della sua famiglia per esempio C'è una bella famiglia, sì, sì C'ho due fantastici giannitori C'ho papà, si chiama Gianni Mia madre si chiama... Gianna La conosce? No, che la conosce Non avevo dubbi Il mio fratello si... Grazie, grazie a San Però non vado d'accordo con mio fratello Come si chiama suo fratello? Giannino Giannino Non ci vado d'accordo Perché? Perché Gianni Sporchi si lavano in famiglia L'ha costruita male questa Ascolta e merce Perché è difficile cosa No, ritorniamo a questo discorso Che è la cosa più importante Cerchiamo di conoscerti Senza andare sul copione No, no Cioè tu come fai ad avere tutte queste donne? Cioè veramente cominci a diventare il mio eroe No, Gianni Non abbiamo capito questa cosa Eh? Sì, che devo fare? Per esempio, no Facci un poppetto neppone a lui Tu hai dei superpoteri? Ah, sì Oh sì Sì, sì Io ho No, sì Facciamo fa Yeah, yeah Vabbè Hai dei superpoteri? Sì, sì Io ho dei superpoteri Per esempio Voli? Sì Ho fatto il biglietto per domani A mezzogiorno A parte ho fatto il check-in Pure online No, come superpoteri Sì, poteri Pure questo Poi c'ho Qualche cos'altro? Il raggio Hai il raggi gamma? No Il raggio Gianna Raggi Gianna C'è tutto quello che dico Tu dici Gianni Bungee jumping? Bungee jumping Non avevo dubbi Così L'abbiamo provato Ma questo cosa fa nella vita? Fortissimo Si rifiuta anche di fare film Si è rifiutato di fare il film Chicago Come mai? Che la frittà che te genita Allora finiscila Non ce ne ho Questo è un blocco verde Le fanne Le fanne Le fanne Le fanne la cacca Tutte quante Questo è un blocco verde Abbiamo avuto la prima dimostrazione con i fiori Vieni, questo è per te La lettera La lettera Legga, legga Assoluto ci crede Grazie Ciao Gianni Sì, io sono giusto Giusto Corretto Corretto Magari Non posso più giocare con i miei sentimenti Allora come giochiamo a nascondino? Bello, a nascondino Ma lettera Questa è innamorata di te Sì Non gioca adesso Tu per me conti A nascondino Giochiamo, va bene Conto io Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Gianni Tu per me conti Persona Non voglio nascondermi dietro a un dito Eh certo Se non la vedo subito Se nasconde Si è giocato a nascondino È innamorata di te Sì, sì E lo so che quando mi vedrai Mi dirai Battigiani libera a tutti Bravo Gianni Offizia Offizia Che è l'artista completo Che l'ho portato Signor Madraglia Prima che la strada Tutte cose Ma che sei più brava Ma certo Allora, lo mettiamo alla prova Mettiamo alla prova Grande film Lo improvvisiamo di nuovo Facciamo la facciata Il signore degli anelli Lei arriva e dirà Questo è il mio tesoro E farei di tutto per averlo Ok Mi raccomando Siamo pronti Attenzione La spada No Da fastidio Da fastidio E fa un tocco Chiudere l'occhio Vai Questo è il mio tesoro E farei di tutto per averlo Vabbè, tu poteri Tanto peggiamo Nei cienese Bravo Giosi Vi faccio sapere Signor Madaglia A mettere Il finale più brutto Che abbia mai sentito Non ha riso nessuno Poesia Li faccio sapere Pubblicità Su, su, su Palare, vive Li, 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 li A strike of your heart Hang on everywhere To say it Oh, tell the birth No, no Baby, I will read our reading Just to play the best